L'ultima partita è stata soltanto patta. Questa invece è una vera e propria detective story. Perché? Perché dovremmo trovare l'errore di Keres che a tratti sembra addirittura non esserci. Quindi mettetevi comodi, ci vediamo dopo la sigla. Ciao, io sono Danilo Di Stasio e questo è Follemente Scacchisti, il canale italiano di scacchi, più folle che ci sia. Siamo alla partita numero 38, la rivincita tra Fischer e Keres, questa volta Fischer bianco. Una partita spagnola, il titolo Detective Story, proprio perché Keres commetterà degli errori veramente impercettibili e quindi sarà nostro compito da veri detective andarli a trovare, insieme chiaramente a Fischer. Leggiamo l'introduzione. Capita a volte di ottenere vittorie che sembrano miracolose, perché nonostante le intense analisi del dopo partita, non si riesce a trovare la mossa sbagliata o il piano errato dell'avversario sconfitto. Com'è possibile ciò? Chi perde deve fare un errore ad un certo momento, per quanto piccolo, nascosto ed insignificante esso possa essere. È la novità praticata in apertura che porta Keres alla sconfitta? La sua difesa potrebbe essere migliorata? In caso affermativo, a che mossa? Qualunque sia la risposta, il lettore è invitato a prendere la sua lente di ingrandimento e a dare la caccia insieme a Sherlock Fischer, addirittura, a questo introvabile errore. Andiamo quindi a vedere. E4, E5, abbiamo detto una partita spagnola in particolare con variante chiusa, quindi alfiere 7, torre 1, B5, alfiere B3, D6, C3, arrocco, H3. Nella partita 36, al posto di H3, abbiamo visto D4, quindi se volete vedere quest'altra variante, tornate alla partita 36, di cui vi lascio il link in descrizione. In questa partita, invece, Fischer sceglie l'approccio, se vogliamo, anche classico, quindi con H3, proprio per impedire alfiere G4. Cavallo A5, alfiere C2, C5, quindi linea classica, D4, la mossa tematica dell'apertura. E qui, ragazzi, la novità teorica di Keres, che commenta così la sua mossa cavallo D7. Non è facile trovare una continuazione soddisfacente per il bianco a questo punto. Keres dice questo, Fischer risponde. La continuazione di Keres, apparsa per la prima volta in questa partita, è diventata poi assai di moda. Io, però, non ne sono rimasto così impressionato, né lo sono tuttora. Il nero perde tempo a portare il cavallo in B6. In più, il lato di Re risulta indebolito, perché giustamente c'è un pezzo in meno. Viene da chiedersi se non sia meglio lasciare il cavallo lì dove si trova. Questo è il commento di Fischer, che di tutta risposta dice D per C5 D per C5, punto esclamativo. Sebbene cavallo BD2 sia la mossa più spontanea, il nero può ottenere la parità in questa linea, perché chiaramente, qua sapete, il piano è quello di portare il cavallo in F5 attraverso questa manovra. E quindi cavallo BD2 è la prima mossa di questo piano. E dice Fischer, cavallo BD2 è la più spontanea. Il nero, però, può trovare subito la parità con C per D4. C per D4 e cavallo C6. Il cavallo ritorna in gioco verso il centro e dice Fischer, secondo lui, questa è una posizione di parità. Altra possibilità, al posto di D per C5, che riporta sempre nelle sue analisi Fischer, è D per E5, che dice addirittura non va bene. Perché non va bene? Perché sembra quasi giustificare l'idea cavallo D7 del nero. Infatti, a D per E5, il nero risponde cavallo per E5 e dice Fischer, il nero sta bene. Nonostante abbia vinto questa partita, Fischer non sembra molto convinto dell'esattezza della sua continuazione, dice Keres, dato che in un'altra partita, giocata in seguito, al posto di D per C5, come ha fatto in questa, ha giocato D5, quindi bloccando il centro. Risposta Fischer, giustamente, non si tiene niente, dice, ah sì, ma pure tu, Keres, non sei tanto convinto della bontà della tua cavallo D7, visto che nel 1965, quindi tre anni dopo, contro Gligorich, al posto di cavallo D7, hai giocato donna C7, quindi ti sei rimangiato la tua novità. E quindi c'è stata un po' questa diatriba. Comunque, cavallo D7, D per C5, presa, cavallo BD2. E qui, ragazzi, il primo punto della detective story, donna C7. Questa è forse la mossa che causa tutti i guari, dice Fischer. Ma se questo sviluppo così naturale e spontaneo non è buono, come può continuare il nero in questa posizione? Quindi, già per loro, questa è la mossa che porta alla sconfitta. Quindi, figuriamoci a che livello stiamo parlando. Alternativa di Boleslavski, nelle sue analisi, è F6, che dice addirittura con parità. Quindi, un'affermazione molto importante. E dice Fischer, questo drastico giudizio fece sì che i giocatori abbandonassero la continuazione D per C5, almeno fino a pochissimo tempo fa. Infatti, anche in questa variante, il bianco ottiene un buon vantaggio, come in una successiva partita tra Fischer e Ivkov del 1965, che è andata avanti così, quindi con F6, cavallo H4, cavallo B6, cavallo F5. Quindi vedete questa idea di portare il cavallo in F5, per liberare la donna. H4, minacciando la spinta in H5, seguita dalla manovra cavallo D2, cavallo F3 e cavallo H4. Quindi, chiaramente, questa è come è proseguita la partita, però la vera minaccia, insomma, perché c'è stata Gisela, la vera minaccia era proprio fare H5, cavallo F3, H4, quindi per mettere pressione. Alternativa, in seguito, insomma, alla manovra che abbiamo detto, poteva, appunto, essere G6, proprio per difendersi, e quindi la continuazione che abbiamo visto, con cavallo H6 e donna F3. Dice Fischer, che in questa posizione, comunque, il bianco conserva vantaggio. Tornando quindi alla partita, donna C7, un primo sospetto, prima imprecisione, se vogliamo. Cavallo F1, il bianco continua con il suo piano, cavallo B6, cavallo E3. Torre D8, donna E2, tutte mosse abbastanza standard, quindi, da non commentare quasi, alfiere E6, si completa lo sviluppo, cavallo D5, punto esclamativo. L'idea del bianco, dice Fischer, è quella di aprire più linee possibili, e sfruttare la debolezza del lato del re, del nero, che giustamente non ha pezzi. Vedete, anche nella teoria delle scatole, no, dei quattro quadrati, il nero ha uno, due, tre, quattro e cinque pezzi qui, e soltanto due a difesa del re. Quindi, chiaramente, il bianco ha tutto il diritto di attaccare sul lato di re. Cavallo D5, cavallo per D5. dopo alfiere per D5, dice Fischer, la situazione non è tanto per la quale, per il nero, perché? E riporta questa variante, dice, pedone per F6, H4. Il bianco annuncia il suo attacco. E se ora il nero continua con cavallo per D5, dice Fischer, allora diventa assai forte H5, con questa spinta che veramente rischia di indebolire ulteriormente, la già debole struttura del nero. Se il nero, invece, dice Fischer, prosegue con cavallo AC4 in questa posizione, allora comunque H5 è forte. E se cavallo D6, donna D3, si forma questa batteria e qua il nero effettivamente non sta molto bene, perché su E4, ragazzi, non può mancare il sacrificio di qualità. Ora l'avete visto anche con Walter nelle sue bellissime puntate della serie e il sacrificio posizionale di qualità, anche se qui più che posizionale è anche tattico, proprio perché c'è una minaccia bella e chiara su H7. Ok, quindi torniamo alla partita cavallo D5, cavallo per D5, pedone per, alfiere per e cavallo E5. Dopo essere stato nei primi anni della sua carriera un giocatore tipicamente di attacco, dice Fischer, che Eres è passato ad un tipo di gioco posizionale e difensivistico, ma questa posizione è troppo da difendere anche per lui. Effettivamente è un cavallo al centro, coppia degli alfieri perfetta che punta sul re, torre donna che controllano la diagonale, anzi, minacciano addirittura l'alfiere, l'altra torre pronta ad entrare in gioco sembra veramente una partita da manuale. Torre A7, una mossa strana ma necessaria. Dice Fischer, che altro avrebbe potuto fare il nero per difendere la sua settima traversa? Il bianco, infatti, minaccia di portare rapidamente tutti i suoi pezzi in gioco con alfiere F4 e torre A1, quello che dicevamo. E già vi sono nell'area possibilità di sacrificio a quel punto idee tipo cavallo G6, cavallo per F7, tutte idee molto, molto forti. Se ora il nero, dice Fischer, avesse giocato al posto di torre A7 qualche altra mossa ci sarebbero stati già dei problemi e andiamo quindi a vedere. Una possibilità può essere alfiere D6 perché dice ok, l'alfiere qui è debole sotto attacco lo sposto e Fischer dice donna D3, attacco qua e attacco qua. Alfiere per E5, donna per, re F8, F4, il bianco vince, l'alfiere si sposta, la torre controlla le case di fuga e si minaccia matto. Altra possibilità al posto di torre A7 poteva essere alfiere E6, chiudere la colonna, aprire la colonna alla propria torre, ma anche qui tattica al servizio della strategia. Cavallo per F7, l'alfiere è in difeso e alla mossa successiva si recupera il pezzo sacrificato. Ulteriore possibilità, alfiere F8, il re non ha pezzi che lo difendono, portiamo l'alfiere a difese e togliamolo da questo punto debole. Dice Fischer, donna H5, non c'è problema, ti attacco con tutti i miei pezzi, G6, donna H4, alfiere G7, cavallo G4, e il cavallo insieme all'alfiere diventa molto forte su queste case nere che diventeranno deboli non appena si cambia l'alfiere campo scuro. Ultima possibilità analizzata da Fischer è invece, al posto sempre di torre A7, torre E8, quindi difendendo l'alfiere e addirittura minacciando eventualmente a raggi X la donna. Ma il problema è che il bianco ha sempre questa risorsa, donna D3 con attacco doppio e quindi anche qui il bianco sta molto molto meglio. Per concludere analizziamo quindi la variante forse più importante, F6. anche qui F6 sembra una di quelle mosse decisive perché comunque così la donna difende G7, il cavallo è sotto attacco, però anche qui Fischer trova una linea molto molto interessante, donna H5, lasciando quindi il pezzo in presa e se F per E5 alfiere per H7, la donna controlla le case di fuga, 3 F8, torre per E5, quindi tutti i pezzi del bianco vedete come stanno entrando rapidamente in gioco, alfiere F7, torre F5, quindi con una linea del genere veramente la pressione è quanto mai insostenibile e se anche alfiere F6, torre per F6 che mantiene l'inchiodatura, pedone per, anche l'altro alfiere in gioco, Re E7, anche l'ultimo pezzo in gioco, veramente questa è una linea analizzata da Fischer molto molto bella con questi sacrifici che però permettono a tutti i pezzi bianchi di esprimere il massimo del proprio valore, quindi torre 1, alfiere E6 analizza ancora qualche mossa e dopo alfiere F5 chiaramente capite che la pressione inizia a essere determinante, alfiere F4 è proprio il colpo di grazia. Quindi torre A7 è una mossa un po' bruttina ma tutto sommato necessaria, quindi la torre difende la settima traversa e difende l'alfiere. Alfiere F4 comunque, donna B6, il bianco chiaramente minacciava cavallo G6 che difende l'alfiere e l'alfiere attacca di scoperta la donna e si attacca anche il cavallo. Dopo donna C8 infatti il bianco poteva anche continuare dice Fischer con torre AD1 quindi completare il suo sviluppo. nel caso della partita invece non è cambiato tanto perché donna B6 torre AD1 minacciando dice Fischer torre per D5 torre per D5 e donna E4 con il famoso attacco doppio a torre e al pedone a casetta. Tattica elementare. Il mio istinto mi spingeva a rinforzare la posizione invece che già ricercare soluzioni violente quindi una sorta di salvadanaio torre AD1 metti un'altra moneta nel salvadanaio e poi spendi tutte le tue monete e ti compri un bel gioco come torre per D5 e donna E4. G6 il nero dice basta mi hai scocciato con queste minacce su H7 voglio toglierti la possibilità di attaccare quindi gioco G6 eliminando dice Fischer le possibili combinazioni contro il punto H7 ma creando in questo caso nuove debolezze sulle case nere. c'era di meglio la domanda di Fischer e qui anche qui analizza un paio di alternative una possibilità è data sicuramente da alfiere per A2 alfiere per A2 è un pedone in presa quindi una variante che va calcolato e che cosa dice Fischer dopo alfiere per A2 torre D8 donna D8 B4 presa presa alfiere per donna E4 quindi lasciando anche questa torre in presa se il nero fa l'ingordo rischia di brutto con donna H8 alfiere G5 e qui addirittura si perde ragazzi la donna con questa linea che ha analizzato Fischer il re costretto ad abbandonare la donna e quindi il bianco recupera il materiale sacrificato con gli interessi motivo per cui fondamentalmente tante altre alternative non c'erano quindi di nuovo Keres sta provando a difendersi al meglio cavallo G4 Fischer non perde tempo e vuole subito sfruttare queste nuove debolezze anche qui alfiere per A2 è una possibilità e va valutata e che cosa dice Fischer alfiere per A2 di nuovo torre D8 donna D8 alfiere H6 questa volta quindi completando il controllo delle case scure deboli attorno al re se F5 donna D5 quindi minacciando chiaramente il matto alfiere D6 così difende la torre lateralmente torre D1 sfruttando l'inchiodatura cavallo C4 donna E6 e qui ragazzi B3 risulta decisiva perché si interrompe il collegamento dell'alfiere e alfiere G5 un massacro partita molto tattica analizzatele con calma queste varianti perché sono molto molto belle ma altrettanto complicate in partita in partita in partita quindi Keres non va per queste complicazioni perché intuisce che il bianco ha troppi pezzi sviluppati e quindi non può andare a caccia di pedoni piuttosto decide saggiamente secondo me di riportare in gioco il cavallo che effettivamente qui sul bordo non stava facendo granché cavallo C4 alfiere H6 per controllare le case scure un'alternativa che analizza Fischer è anche cavallo H6 alcuni consigliano la più immediata cavallo H6 ma dopo Reggi 7 dice Fischer torre verdi 5 presa e cavallo per F7 dice Fischer penso che in realtà il bianco qua perde un po' della sua iniziativa e il nero se sta attento riesce effettivamente a salvarti perché ha disposizione la forte mossa difensiva donna F6 tale variante mi sembrò piuttosto rischiosa e la scartai istintivamente del resto il nero è assai legato e io preferì mantenere le cose come stavano cercando una vittoria strategica quindi anche un Fischer maturo che non ha fretta di buttare i pezzi addosso all'avversario ma cerca la continuazione migliore quindi alfiere H6 mettiamo altre monete nel salvadanaio alfiere E6 alfiere B3 punto esclamativo l'alfiere inchioda il cavallo e aumenta la pressione donna B8 anche questa una mossa necessaria dice Fischer necessaria per evitare che la donna bianca occupi la casa E5 immaginate ad esempio alfiere per alfiere per e donna E5 il matto qui diventa veramente insostenibile anche se alfiere F8 cavallo F6 e poi ci sono scoperte tipo cavallo D7 scacco quindi veramente brutta brutta situazione motivo per cui donna B8 si rende necessaria torre per D8 alfiere per D8 chiaramente quello che abbiamo detto se donna per D8 la donna non controlla più la casa critica E5 e quindi addirittura ci può essere anche questa variante con cavallo F6 perché qui si minaccia matto se prende c'è il matto del corridoio e quindi capite bene che è forzata la cattura di alfiere alfiere per D8 siamo quindi in partita alfiere per C4 presa di pedone proprio perché la cattura di alfiere è praticamente impossibile a causa del matto donna per C4 sembra un sacrificio la donna è effettivamente in presa ma il prezzo da pagare per catturare questa donna è l'intera partita donna D6 quindi un tentativo comunque di portare un po' la donna più verso il centro magari l'altra torre a difesa in E7 donna A4 la donna chiaramente si sposta donna E7 come dicevamo cavallo F6 sempre col concetto di deviazione perché la donna vuole andare in E8 Re H8 cavallo D5 Fischer in pieno controllo donna D7 donna E4 si ritorna alla minaccia di donna E5 motivo per cui Keres si difende con donna D6 e quindi anche qui Alfiere Per chiaramente perde a causa del matto del corridoio donna D6 e donna D6 chiaramente la debolezza della prima ovvero ottava traversa dice Fischer è stata la principale rovina del nero nel centro partita ed è vero perché tutte le mosse del nero sono state sempre condizionate da questo Alfiere H6 che controllava le vie di fuga del re nero cavallo F4 torre E7 Alfiere G5 qui se vogliamo l'imprecisione di Fischer perché l'imprecisione perché è giusto l'idea di attaccare la torre ma sarebbe stata più forte Alfiere F8 proprio perché la torre non si può muovere in questo caso come invece ha fatto in partita proprio perché dietro c'è la donna con Alfiere G5 infatti è possibile giocare torre 8 mantenendo quindi la torre a difesa dell'alfiere e proponendo questo cambio che Fischer ovviamente fa per deviare la torre stessa ed entrare in questo finale vinto si cambiano i pezzi la nebbia famosa si dirada Fischer ha due pedoni in più la torre attiva ne sta attaccando un'altra torre D1 re H2 torre D2 Keres prova a difendersi cercando un po' di compenso attaccando due pedoni contemporaneamente ma il vero problema è che dopo torre B6 torre F2 re G3 fondamentalmente il bianco riesce a portare il proprio re in gioco mentre il re nero è tagliato fuori e come sapete nel finale il re va portato verso il centro altrimenti si gioca con un pezzo in meno motivo per cui dopo re G3 Keres ha abbandonato una continuazione possibile giusto per farvi capire come il finale è veramente verso può essere qualcosa del genere quindi ci si crea il pedone passato e addirittura guardate questa torre come è passiva per cercare di attaccare l'unico punto se vogliamo un po' più debole dello schieramento del bianco ma il re ha tutto il tempo di venire e mangiare il pedone in a6 partita giocata veramente ai massimi livelli da Fischer che ha dimostrato maturità l'errore tutto sommato se andate a rivedere la partita da parte di Keres non è così chiaro ma si tratta piuttosto di una serie di imprecisioni un po' l'apertura un po' le scelte anche posizionali fatte da Keres che lo hanno portato a questa sconfitta quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana ciao 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 ciao